Il nostro politico, il primo, è la posizione importantissima, la posizione è la posizione in parallelo e la presenza del spazio. Perfetto. Allineiamo il terreno. Adattao. 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 Che cosa significa l'interno? Significa che i muscoli superficiali si rilassano, o che sono un po' appesi all'osso. Cerchiamo il massimo rilassamento della parte esterna del corpo, dei muscoli più esterni, che sono un po' di rilassazione. Invece ci concentriamo all'interno, che significa le ossa, i pelli, i muscoli muscoli. Siamo gatti. E' quindi rilassati con un po' di rilassamento. E' la Pakistani. E' una paura, come rilassati, per me, in questa differenza. Perfetto. Questo ci consente, dobbiamo mantenere la costruzione, la teoria pulona e il sulno, e la teoria pulona. Perchè le sker renewed. Perchè quando si rilassama per te in un punto che diventa changed i muscolini. Quindi iniziamo con un vero che come un posturito da aye. Le gagne sono due in atto. Si appoggia la terra, tutta la loro morte, la terra è un'amica che si spetta, la terra è un certo punto. Le spalle, le azioni, 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 le azioni e le azioni. E qui abbiamo la suddivisione con un'altra parte di armi. Grazie. Io ho tantissimo la posizione della scena di armi. Qui dobbiamo andare a sentireci. Come si è avvisato? Come si è avvisato? Come si è avvisato? Prova, come si è avvisato? 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 Per la prima rischia di rischio. Perché si è avvisato il nostro territorio? No. Allora, molto bene. Questa? La risposta è di rinforzare. Questa è la situazione che è avvisato. che si allungano come fossero un elastico che tiene la sua cosa lo vado a dovere delle composizioni, perché a volte teniamo un'opera a stare un pò per i lati, per casa con uno specchio, vedete, se riuscite a stare sempre in tutta lì, ok? questo è il tuo profondo in genere si deve stare un po' è l'altra parte e se ti vedi di là la colline deve stare così e se saperebbe l'altra parte è l'altra parte è l'altra parte anche di nuovo non si vede di nuovo il ginocchio di via questo è il quale si vede di nuovo si vede di nuovo non si vede di nuovo allora si vede di nuovo il testo il suo lavoro sulle amare questa apertura di agganciare la terra lasciate la testa guardate 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 se io faccio io rispito che si spera non è necessario se io guardate 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 anche qui due direzioni scende verso la terra la testa invece spinge possiamo dire che come tu hai visto leggermente come è esterna si vede la parte che lo riesce e che la zona lombare questo effetto si estende che riempie un po' i reti quindi la zona lombare viene qui a aprirsi e distendere tutti i problemi della prova sentire il rallentamento della prova le spalle sono quelle che lavorano con il mio destro e invece noi le facciamo lavorare con il mio destro perché facciamo sempre bene passata prima stiamo sotto questa volta lascia la stessa dobbiamo creare un bravo che si colmese nel centro rilassando il centro di questo avanti avanti e saranno riempire la zona di riempire un po' i reti perché la zona si estende quindi la pulpa lombare si riempire si riempire si riempire si quindi il petto si rilassa che è il centro dell'arco superiore senza più si riempire attenzione attenzione attirare leggermente verso l'eccesso questo si rilassa è un po' come le altre queste riempire si riempire a questo punto dovrò rimanere rilassato e potete dire respirare 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 con la voce respirare con la voce cosa succede a questo punto con la respirazione domenale fa scendere l'energia in basso attiva e tant'iente c'è il troppo sotto l'obbello veramente e metti in circolo l'energia e questa è la prima posizione di cibo di nuovo la testa di sale scendiamo tradizionalmente queste posizioni non lo vediamo a fare il momento sono pesanti però le posizioni vanno un po' tenute e ma ci servono a studiare e a creare la proprietà struttura fisico-elezione e a studiarci il senso di cibo un march e poi il numero non lo vediamo questa posizione questa posizione che abbiamo a rispondare l'energia rispondare la rinventura della produzione e la dedizione e questo è molto molto importante la presenza mentale senza pensieri lasciamo la presenza nuova in maniera rilassata la posizione nella presenza e la parola inizia e distingiamo rispondare senza pensieri e distingiamo la posizione Questo è l'aspetto basso, gli altri elementi fondamentali sono nei punti del corpo interno, quindi le parti del corpo vengono mossi internamente, non esternamente, cioè usando i muscoli interni profondi, non i muscoli interni, per farciare il corpo. Il terzo aspetto, il cinque, creare regolamente delle onde di movimento, dei flussi, che poi creano un movimento del corpo. Questa è la differenza fondamentale. Prima è la scelta, il secondo è il nemico, è lavorare anche bene con l'esterno e sviluppare l'elasticità della struttura interna di questo corpo. Il terzo, il clusso di energia, la mente, lui attiva, come vedremo, per il corpo sempre. Però se non abbiamo elasticizzato il corpo, il corpo è troppo buro, l'energia non riesce a creare il movimento, non riesce a flurire. Per cui è tutto collegato, queste tre cose sono collegate a stile. Cominciamo.